Buon pomeriggio, buona serata, anzi, dallo stadio Ennio Tardini dove sta per arrivare il pullman della Nazionale Italiana per l'allenamento di rifinitura. Poi seguirà la conferenza stampa di Cesare Prandelli, dunque sono 25 gli azzurri che arrivano qua. Vi possiamo già dare la lista degli esclusi. Criscito, per ovvie ragioni, poi Viviano, Astori, Bocchetti, Schelotto, Cigarini e Verratti. Questi giocatori non faranno parte della spedizione azzurra per Euro 2012. Resta ovviamente il grande enigma legato a Leonardo Bonucci. Ci sono due difensori in più nel contingente azzurro che viaggia verso il Tardini. Sono Balzaretti e Ranocchi, il che lascierebbe intendere anche un'ipotesi di un taglio ulteriore, quello di Bonucci. Ma sapremmo essere più precisi tra pochissimo in diretta qui su Rai Sport 1 per un lungo speciale. A te.